Bentornati, eccoci di nuovo a casa di Giorgio Porcino. Ciao Giorgio. Salve Fiore. Oggi siamo in compagnia di due splendidi Airdale Terrier. L'hai imparato? Allora, Airdale, hai detto benissimo, abbiamo detto di Terrier. La giornata oggi è abbastanza calda, per cui i poveretti hanno corso abbastanza. Insomma, hanno bevuto e quindi sono qui. Lui è il padre. E lui è il figlio. Lui è già un cane, diciamo, allora innanzitutto i nostri ringraziamenti devono andare a Roberto Euteri, allevamento Ashgrove, appunto allevatore di Fox Terrier, appello duro, ti ricordi, già l'abbiamo visti. Esatto, e di Airdale. Lui è già un campione italiano ed americano e lui è il figlio e sta incominciando adesso la sua carriera espositiva qui in Italia. Allora, l'Airdale, come lo dice il nome, viene da questa regione dello Yorkshire, del sud, e da un fiume, Air. E sono cani, quindi, sono Terrier, sono cani inglesi e vengono considerati praticamente il re dei Terrier, perché in realtà sono i più grossi Terrier che ci siano, quindi il loro portamento così regale e le loro attitudini hanno un po', diciamo, il carattere abbastanza flemmatico che hanno, che li contraddistingue. Fiorenza un pochettino dagli altri Terrier, che sono comunque dei Terrier forse un pochettino più, non dico nervosi, ma sono abbastanza, diciamo, linfatici. Bravo, siediti, tesoro. Ah, beh, certo. Ecco. Vieni qua, tesoro, fatti vedere. Quindi praticamente il loro carattere ha un po' quest'anno questa, diciamo, nomea di essere un po' il re dei Terrier. Come tutte le razze, e qui lo ripetiamo perché purtroppo è un po' un filo conduttore, quindi Fiorenza abbiamo sempre detto che le razze nascono per un utilizzo, quindi lui era considerato un cane da caccia, veniva comunque, diciamo, partecipava a queste battute di caccia, perché naturalmente all'epoca la caccia comunque non era uno sport come, insomma, forse potrebbe essere considerato oggi, ma era un po' un'attitudine, una sopravvivenza, quindi la selvaggina che si prendeva in realtà veniva poi consumata. Noi andavamo, insomma, adesso andiamo ai supermercati a prendere cose da mangiare, una volta si andava a caccia con dei cani, quindi è stato per tanti anni un ottimo compagno dell'uomo, perché anche l'Erdale, come altre razze abbiamo visto, però aspetta, vorrei farlo girare. Sì, perché sono tutte e due di spalle. Eccoli qua, no, ma siete così belli, siete, perché di spalle? No, poi si dice che anche gli angeli non hanno spalle, è vero? Però forse... L'idea è quella che comunque appunto negli anni poi la loro attitudine è diventata quella di essere appunto cani da compagnia, a differenza degli altri terrier, come diciamo all'inizio, sono estremamente più docili, più tranquilli, più mansueti, più riflessivi. Ciò non toglie che appunto il loro carattere comunque rimanga, perché fondamentalmente... Lui è incuriosito dal mio dito fasciato. Fondamentalmente, diciamo, le caratteristiche del cane rimangono, quindi vengono considerati degli ottimi cani da guardia, perché hanno questa particolarità. Se tu pensi addirittura che nella Seconda Guerra Mondiale e anche diciamo in altri conflitti è stato usato quasi come un cane della polizia, addirittura la Wehrmacht lo preferì ad altre razze proprio loro, tedesche tipo Rottweil, Dobermann, gli Schnauzer, lo preferirono per le loro caratteristiche, come ti ripeto, di aggressività, ma molto comunque controllata, molto bilanciata, appunto come diciamo sono cani estremamente riflessivi. Tutto questo fa sì che ci possa essere anche da parte, diciamo, di chi li tiene, quindi adulti. Lui perché lo sta guardando? Scusa Giorgio, però è vero, è andato lì proprio a molestarlo, perché l'ho appuntato. No, io vi chiedo scusa, però l'ho fatto un po' avvicinare, perché sapendo che appunto sono padre e figlio e che convivono, allora normalmente, però non è stato un morsetto aggressivo, è stato un avvertimento. Esatto. Questo anche al solito, quando succedono queste cose non gli ha fatto niente, no, solo un po' di... Di bavetta. Di bavetta. Tesoro, lo so, è tuo padre, scusa, a volte i rapporti con i genitori sono sempre un po' tesi, vero? Ma puoi dire, ci sei rimasto malissimo adesso. Ci sei rimasto male, no, tesoro, non è così. Diciamo, quando succedono queste cose, a noi non è che faccia piacere per carità, però comunque vi fa capire perfettamente che a volte anche nelle cose che ci vengono esposte, quando due cani si litigano, eccetera, questo è un classico, perché praticamente lui, il padre, che è naturalmente il più grande, con questo gesto ha voluto sicuramente far capire, e come vedi il figlio, come si dice a Roma, un po' abbozzato. Ah sì, eh. Non ha assolutamente avuto nessun tipo... Ci è rimasto proprio male, poverino. Esatto, ci è rimasto malissimo. No, ma soprattutto secondo lui ci è rimasto male perché non stava facendo niente di male lui. No, però comunque è un avvertimento, un avvertimento che sta appunto a indicare... Comunque, come il detto cinese, no, quando torni la sera a casa tu picchia tua moglie. Non sai perché, ma qualcosa avrà fatto. Oggi è il giorno delle massime. Esatto. Allora, quindi praticamente è un cane indicato per tutte quelle persone che abbiano volontà di avere un cane, innanzitutto va bene, è bello perché abbiamo... Allora, io vorrei, aspetta però che io ho un po' un handicap di mano... Tu non ti muovere, no, 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 non lo farei avvicinare per carità. Per carità nel senso buon... Allora, no, guardate, come tutti i terrier deve essere inserito nel quadrato. Allora, poi le caratteristiche forse non le ho piazzate in maniera perfetta. Allora, qui intanto tiro sulla coda perché questa è la loro... Allora, lui ha una coda... Ha la coda integra mentre il padre invece... Il padre ha già una coda esatto, un po' tagliata. Viene praticamente tagliata intorno ai due terzi, quindi praticamente questa sarebbe una coda, diciamo, tagliata e questa in realtà è una coda integra. Oggi vengono selezionate anche per le code integre. Allora, scusami Giorgio, ma perché tagliano la coda che poi in realtà gli levano soltanto il piccolo pezzo finale? Il piccolo pezzo, naturalmente anche questo per un discorso di utilizzo, perché una volta naturalmente il cane, per far conto in una risa o qualsiasi altra cosa... Si attaccavano. Esatto, come abbiamo visto, per esempio... Sì, però normalmente la tagliano molto più corta per evitare... Ma questo, onestamente, adesso mi fai una domanda a cui non vorrei... Va bene. Ecco, hai un'altra domanda? Una, sì. Volevo chiederti, hanno dei piedi molto piccoli questi cani? Un piede da gatto? Eh sì. Mi stai prendendo in giro? No, 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 no. Allora, la caratteristica, diciamo, del terri, la bellezza del terri, naturalmente poi, e qui rimandiamo sempre alle sapienti mani dei tolettatori, che abbiamo capito essere... Un valido compagno. Sì, sono fondamentali, perché, diciamo, chi decide di prendere un cane a cui deve essere, diciamo, data questa attenzione sul pelo, quindi praticamente un'attenzione di uno stripping, un trimming che abbiamo visto, cioè solo le sapienti mani di un, diciamo, di un tolettatore possono, numero uno, darti una condizione ideale di questo mantello, e poi abbiamo visto che, al di là di tutto, non è tanto un discorso proprio solo estetico per dare una forma, ma comunque, praticamente, anche un'igiene poi della pelle, un'igiene del pelo e via discorrendo. Ma a questi cani si fa lo stripping? Sì, 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 loro praticamente sono, diciamo, due, tre volte l'anno, tre volte l'anno circa, vengono, diciamo, strippati e poi vengono trimmati, mettendo in ordine varie parti. E questa è la prerogativa, appunto, di questo piede, che sono, appunto, dei piedini da gatto, perché sono dei piedini molto piccoli, rotondi e robusti, esatto, e praticamente anche la spalla, come vedete, è una spalla molto dritta. I terrier hanno questa tipica andatura, l'abbiamo detto anche, non so, se ricordi... Un po' di legno? Sì, cane di legno, quello era più o meno il soprannome che veniva dato ai fox terrier, perché hanno questa andatura abbastanza rigida. Nell'Airdale, praticamente, un po', diciamo, ricalca e ricorda altri terrier, quindi, per esempio, il fox, naturalmente più piccolo. C'è un altro cane che ricorda moltissimo l'Airdale, che è il Welsh Terrier, che praticamente ha gli stessi identici colori, quindi un black and tan, come hanno loro, quindi un black sulla schiena, questa sella completamente nera, e le facciamo un po' di amicizia. Questo è l'unico colore? Sì, esatto, questo è l'unico colore che viene riconosciuto dallo standard. Sono cani grossi senza essere poi enormi, perché comunque nel maschio il massimo dell'altezza sono 58-60 cm, leggero di morfismo sessuale per le femmine, quindi femmine notevolmente più piccole e meno belle. Caratteristiche particolari, abbiamo detto che sono cani estremamente docili, affettuosi, perfettamente si inseriscono nella famiglia. La loro vivacità in realtà è comunque distrettamente correlata a quello che è proprio l'unione che possono avere con la famiglia e con la casa, quindi non sono cani che assolutamente possono essere presi in considerazione se non avete proprio la voglia, o la potenzialità di poterli tenere strettamente legati al nucleo familiare. Loro hanno bisogno proprio della presenza di bambini, di un adulto, hanno comunque bisogno di interagire molto più di altri cani con i padroni, perché comunque la loro caratteristica è proprio quella. Estremamente vitali e vivaci fuori come tutti i terrier, estremamente tranquilli in casa, in famiglia. Come ti dicevamo, appunto, sono dei cani che oggi come oggi non è che in realtà stanno scomparendo, perché purtroppo... Ma però è difficile incontrarli. Sì, diciamo che in Inghilterra, al solito, abbiamo detto gli inglesi, anche grossi diciamo hanno avuto una grossa espansione anche in America, specialmente negli anni 20-30, e poi in realtà gli allevatori sono un pochettino, diciamo, scemati, quindi oggi come oggi in Italia riconosciamo pochissimi allevamenti ed è un gran peccato, perché comunque è un cane che dovrebbe avere, diciamo, un peso forse nell'allevamento, nella cinofilia italiana maggiore. Però non si sa perché, sai, le mode spesso e volentieri vanno e vengono e come abbiamo potuto dire, per altre razze, determinate razze riconoscono in certi periodi, non so, magari una grande espansione, quindi una grande iscrizione numericamente nei libri genealogici e altre volte vuoi per la moda per cambia, vuoi magari, non si sa per quale motivo, la gente un po' si stufa e quindi magari spariscono. Quindi sempre questo, chiamiamo l'appello, che noi abbiamo lanciato per Gierdela adesso e che lanceremo poi anche per altre razze o che comunque abbiamo detto per altri cani. Insomma, cercate di capire che se volete un cane, l'abbiamo sempre detto, ci sono i canili, i rifugi, ci sono comunque tante situazioni in cui potete salvare e ospitare un cane. Esatto. Mentre invece se il vostro, diciamo, più o meno carattere o la vostra prelocativa è quella di prendere un cane di razza, e qui non c'è assolutamente niente di male, molto spesso, molto spesso, diciamo, chi prende un cane di razza viene subito un po' così, insomma, deliso, un po' offeso. Guardato un po' male. Ma un po' male perché comunque, diciamo, ma con tanti cani che ci sono, ed è giustissimo, questo è vero, però se in questo modo la, diciamo, la vostra, diciamo, più o meno indole, carattere, oppure il vostro senso estetico, per tanti motivi deve essere comunque indirizzato verso un cane di razza, ricordatevi che ci sono tantissime razze, quindi magari andate a consultare dei libri, c'è internet adesso, è giusto che io non consulto, però comunque so che si trova di tutto, quindi le particolarità della razza, le caratteristiche, allevamenti e tutto ciò che può, diciamo, più o meno interessare, viene comunque potuto, uno può comunque impararlo lì e poi eventualmente, quindi noi in realtà vi facciamo conoscere piccole cose, cioè sono proprio come dicevamo l'altra volta, delle pillole di queste razze. Senti, Giorgio, ma ci sono delle patologie legate? Guarda, i terrier, diciamo che loro possono avere patologie un po' come tutti i terrier a livello o diciamo delle oculopatie con delle lustrazioni del cristallino, ma insomma ringraziando il cielo sono abbastanza rare, in Italia più piccole abbiamo visto il problema di necosi alla testa del femore, ma loro ringraziando il cielo, ti ripeto, essendo cani abbastanza, diciamo, non sono stati incrociati molto, quindi praticamente sono abbastanza, diciamo sì, dalle loro origini, appunto che sono origini inglesi, tali erano e tali sono rimaste, quindi diciamo la loro taglia era più o meno così, diciamo non è che hanno avuto grandi, grandi diciamo... Hanno una forma stranissima del muso. Beh, la testa è anche una loro particolarità e più che altro mi dispiace che non si possa forse vedere bene, però l'intensità, lo sguardo, il colore di questi occhi è qualche cosa veramente di commovente. Diciamo che tutti i cani hanno degli occhi belli, tutti i cani hanno degli occhi espressivi, però a volte in determinate razze e come magari nei terri la profondità di questi occhi è veramente imbarazzante. E la cosa che ci fa anche piacere è di poter appunto farvi un po' conoscere queste cose, ma anche a noi devo dirti, perché io per esempio parlo parlo, faccio faccio, dico dico, ma poi in realtà io ecco un Erdel così, tra virgolette, non dico da vicino, ma insomma così non l'ho mai coccolato. E è la prima volta che li vedo davvero. E devo dirti che in effetti è una bellissima impressione, perché ti guardano fisso negli occhi e veramente ti ascoltano, guarda. Non so, fa piacere anche a me, non dico fare queste cose, dire queste cose, però anche per me è un'esperienza. Amore. Lasciamo Giorgio che sei innamorato. No, è vero, è molto. No, hai ragione, è vero, è vero, sei anche tranquillizzato anche il padre. Meno male. Ai noi, ti devo lasciare Giorgio. Mi dispiace. Mi ricordo il nostro sito www.alice.tv e noi ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao.